Le tratto tutte nello stesso modo, però questa mia moglie non lo deve sapere, anche se lo sa, ovviamente, perché sa come sono fatto. Poi sono molto aperto, le saluto tutte, le bacio tutte, quindi riesco ad avere le parole, sì, conosco le parole per la pallavolo, Psyanche, Bissocco, Psypco, Assegurazia, the basic word, Pogiong e Vubloco, un'altra cosa che dico sempre ai miei giocatori, no. Grazie per la visione!